Ciao a tutti e a tutte! Eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Come state? Mi siete mancati tantissimo e infatti oggi sono qui proprio per fare un video di sole chiacchiere. Mi mancava avere un po' di tempo per registrare un video e chiacchierare con voi di qualsiasi argomento. Proprio mi mancano un po' le idee da trovare per fare i video e quindi ho pensato che alla fine anche i video in cui chiacchierò liberamente, andando a ruota libera e esponendo un po' i miei pensieri a voi piacciono con mio grande, grandissimo piacere e quindi perché non registrarne uno dove chiacchierò molto amichevolmente con voi. Sono molto contenta che sia arrivato un po' più caldo, che ci sia il sole perché sapete che io amo la primavera, l'estate, le stagioni appunto più calde. L'inverno è finito, meno male non ne potevo più nel freddo e soprattutto sono felicissima che sia arrivato aprile perché aprile sarà il mese dei vlog. Sul canale arriveranno due vlog che ho pensato di fare e sicuramente voi apprezzerete tantissimo e sono il vlog dove vi farò sentire finalmente il mio brano, la mia canzone che andò in scena al tetto verde sabato prossimo, quindi il 13 di aprile. E poi avevo pensato di fare un vlog nelle vacanze di Pasqua perché andrò al parco oltre mare di Riccione a vedere i delfini che fanno degli spettacoli appunto in quel parco. A me piacciono tantissimo i delfini, quindi ho pensato che sarebbe stata una bella idea andarli a vedere. E niente, sono davvero felice di portarveli anche sul canale perché è da tantissimo tempo sinceramente che non registro vlog e mi mancava registrare qualcosa della mia vita quotidiana perché so che poi piace molto anche a voi andare a vedere dei delfini. Io non l'ho mai fatta quindi è stato veramente un mio spontaneo desiderio. Vedo l'ora di realizzarlo perché appunto sarà qualcosa che si aggiunge alla lista dei miei sogni. Sono veramente felice di potervi finalmente far sentire la mia canzone, anche quello non è da meno. Sto facendo le prove prima di fare quelle in teatro che saranno le generali perché appunto andrò in scena al Teatro Verdi di Fiorenzuola grazie a una compagnia teatrale che mi ha dato il permesso e la possibilità di cantare la mia canzone insieme alla mia amica. Potrete vedere anche come sarò vestita e potrete vivere ancora una volta l'emozione di stare appunto dentro a un teatro e che vi possiate anche perché no emozionare con me, emozionare per il testo e per lo spettacolo. Spero che comunque vi faccia piacere avere questo mese un po' particolare, che comunque porti sempre la stessa cosa che cerco di portare in tutti i miei video attraverso appunto i messaggi che voglio inviare, ovvero la serenità. Spero di riuscire a farvi passare dei minuti in compagnia, spero che comunque li postiate apprezzare perché anch'io appunto avevo voglia di portare dei contenuti nuovi e quindi ho lasciato libero sfogo alle mie idee. Io sono felice di avere la possibilità di arrucchire un po' le vostre giornate, di donarvi sorrisi a trovarsi i miei video. Vi invito a iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e attivate la campanella per non perdervi nessun altro video. Ciao! Vi mando un bacio. No riesco a bloccarlo. No riesco a bloccarlo. No riesco a bloccarlo. No riesco a bloccarlo.